Festa grande a Zagabria per la vittoria della Croazia sull'Inghilterra. Domenica la squadra giocherà la sua prima finale ai mondiali contro la Francia. La nazionale dei tre leoni nel primo tempo è in vantaggio grazie al gol di Cipia, ma nel secondo tempo la situazione si capovolge. E' molto emozionante, sono senza parole. Voglio ringraziare la nostra squadra che ci ha portato in finale. Sono scioccato, questo può accadere solo in Croazia e da nessun'altra parte. Nel primo tempo ci avevano creduto gli inglesi di poter portare a casa la partita, poi il pareggio nel secondo tempo grazie al gol di Perisic li ha messi in allerta e il gol ai supplementari di Mandzukic ha chiuso i giochi. Sono stati incredibili per tutto il tempo, tranne alla fine. Era la nostra migliore occasione e non l'abbiamo colta. Questo è il calcio. Torna a casa, tornerà a casa. Orgogliosi della squadra. Hanno fatto così bene. Orgogliosi della squadra.